Ma che gioco sta giocando Graspi? Stai giocando qualche platito Vediamo un po' C'è un mio? Vedi. Vedi. Stai giocando un po' Dessi un po'. Vedi. Un po' si si la chiamata vai aprire di là si a me è qua ok Arrivano pieno di zombie Cazzo sto già parlando Guarda l'arma FG-42 Perfetto Qui la sotto sono io Non c'è la nuke la Pigliala vai 18-3 è fuori 18-3 Pignano avmettono a te il codice Chiedo che io metto la cosa Metto il quadro Dai La roda dov'è cos'è lì? sopra la chiesa, vieni qua dammi, butta cazzo, non so se abbiamo i punti per l'FG42 ci viene una scossa doppia vediamo, magari intanto appena passato il round dai, allora, inizia a prenderti queste 2, vai, vai, killa lì 3, 4, 2, 3, 4, 5 no, apri il museo intanto anzi no, aspetta un attimo, vediamo dove è prima guarda, prima la chiesa si, la chiesa, scusa no, è sotto, wonder weapon killiamo qua chi, facciamo i punti e adesso guarda lì buono mettila si, devo andare in figa al mondo adesso 5 abbiamo detto, lo prima questo è un bel progresso può avversi gente, non c'è niente da vedere ecco a te ok, vieni con bravo, porta la scodella allora dobbiamo abbattere quello zeppel 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8, e 9 e 9 comunque devo fare una kill devo fare una kill guarda dove stai vicino al teatro così vedi il prossimo ricordati che ti ah, vabbè adesso sei lì vediamo ricordati che ti il rosso ok, aspetta che faccio faccio una kill così sì dov'è dov'è? ti piace sono qua 1 2 3 4 5 6 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 7 5, intanto inizio a fare un random io 5, 9, 5 si c'è rosso eh ah si è qua preso ho messo i pupazzi eh quindi 5, 9, 5 6, è 6 paga controbandiere pigliati la corsa andiamo a fare l'hash ti aspetto al museo hai preso coltano tu? no tu le devi prendere il coltello che? si 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 l'ho preso io no pensavo vado a metterlo veloce faccio vado a prendere la mazza oh buona dai fai chi lascia basta lascia skipiamo uh c'è una gnocchia buono 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 è chiuso il museo passa di là si merda a cui bisogna pagare per ogni cosa vieni vieni ho fatto due morti io però devo pigliare le corazze prima ho sbagliato vai se c'è quello trasformato come sempre si lo porto via io lascia i punti intanto sono io no vieni da te non ucciso eh si no c'è l'instant anche c'è l'instant non ha fatto andare più diversi ok quella mazza di merda vabbè ha fatto dai vediamo un po' poi c'è l'instant anche se non l'ho preso magari sai si vediamo verso 30 secondi 1 2 3 si perco dio Cristo ok quanti ne hai 6 mi sembra 6 7 1 mi piace hai preso tu il cappello nero si questo lo vado a mettere il secondo è sotto il tavolo cazzo il museo è ancora chiuso ma come mai c'è giocare senza consumabile è una merda comunque eh vabbè 1 2 ah no il terzo quello nero no non ce l'ho io è qui preso mettilo mi manca il generale il rosso si il generale l'ho messo io manca solo il rosso 3 ma io lo metto al restaurant no 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 vai vai cioè a fine round lo metti quello rosso si ma si ma se ce l'apri ancora il museo apri quella merda di museo che sennò ci manda in tuta ma il figlio che il rosso è un generale l'ho messo io il generale ah l'ho messo te perfetto si manca il rosso questo è il quarto carica capsule sono tutte cariche indice 40 90 ok lascia in tanti punti vai metti i capelli un attimo vai figlio tutto dai miei punti che vado a facca panciare ecco a te quindi quanto siamo? sei ok mancano quattro mhm so io dai fai un po' di kill intanto perché hai messo mimetica? eh perché non non interazione c'è un cuore c'è un cuore vabbè va bene va bene c'è un cuore c'è un cuore c'è un interazione del corpo che non va aspetta appena hai finito lo piglio c'è un cuore ok sei carico qua vai portalo anche quelli stand in merda ma che cazzo è tutti in istante ma è l'istante oh c'è anche la new quindi ne mancano due prendo la la double tap mi manca si ah tieni 7 e l'ottavo era questo mancano due portalo qua vieni cazzo pensa che avevano già finito se fosse il rosso riusciamo a tenerlo aspetta 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 è l'ultimo l'ultimo si si oddio però in teoria è l'ultimo speriamo che sia l'ultimo speriamo si devi tenerlo uno in più ma come cazzo facevano ad esserci più zombie cazzo che c'erano una marea ho fatto 200 punti dai dai deve essere l'ultimo portalo qua si era l'ultimo no non ce la facciamo senza consumabili è così no è uscito fuori la scossa ma quando dovevo stavo caricando quelli rossi eh se prenderei l'altro rosso non era male non era male no non era male no ok l'ultimo che due buona 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 hai preso l'ultimo si vai 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 è buono il tempo a fare si si va bene pensa che cazzo qua cazzo non abbiamo una spiccola eh quello sarà un problema beh due uccidilo zombie se non abbiamo colto caricatore vabbè vai 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 uccidilo primo quello zombie hai perso il tempo è buono è buono il tempo è buono vai 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 ma il limite butta un pazzo se vuoi cadere quel cazzo no il problema sarà senza spiccola si tutto si riduce a questo controllate le armi dite una preghiera alziamo quel nazzista del cazzo questi terminali possiamo usarli per deviare l'energia porca troia allora il tempo è buono siamo 18 e 26 se tenevamo quel rosso erano sotto i 18 qua porca pittana se non c'era lì stando moriva secondo me quello la massa è una merda giochiamo bene alla boss io non ho non ho rianimazioni che è anche di fare ciò partendo non di là qui qua là qua sai dietro ora tiro un po' basso io non ho carico massimo porco dio spariamo solo al boss guarda tu qualcosa spara maletta merdo perso usare corazza guarda tu passo aspetta che mi devo pigliare una corazza se no andiamo di là l'ha fatto però quando ti carica usa fuoco libero che scazzo come un balone pochi colpi oh 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 oddio non ha le corazze ma se c'è rollo la senza corazza io oh c'è una nuke va bene dopo si si voglio pigliarmi una corazza assolutamente andiamo di là di là di là rosso, rosso, rosso rosso, rosso di là rosso, rosso è la ruotatura questa finirla non abbiamo neanche carico massimo perché non abbiamo carico massimo? di là di là di là vieni rosso rosso vai no io muoio lo sapevo devi tirarmi su devi tirarmi su non dovevi morire due volte lì dovevi avere carico massimo no anche due volte morire lì la faccio io sono fottuto andiamo di là devo fidarmi una corazza assolutamente gira qui sotto sotto fallo scendere tiro il pupazzo ora dopo andiamo di là meglio di così l'arma spesa giriamo guardate com'è veloce dov'è il boss? ah è sopra ora guardate com'è veloce porca madonna ma che scassa è buttato il pupazzo davanti a lei? no è qua sparagli andiamo di là questo non ho colpio caricati caricati che mi attivo fuoco libero ora ora non so se ce la facciamo non dobbiamo andare a terra lì porco dio madonna tutti i zombie erano tutti addosso a me ha detto ma questa butta tu puoi facciare davanti a me non riuscivo a liberare non ho più niente io eh ora eh ciao ho fatto di animi anche striscio no 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 aspetta aspetta non lo corri striscio nella capsula vai nella capsula vai nella capsula vieni 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 aspetta spara 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 ci sono mamma mia oddio non ci credo sono morto oddio 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 non ci credo posso ancora combattere oh mamma che casino oh però l'abbiamo fatto ho 25 e 48 no se stavo lì io non avevo ancora azzi Luca per cui ho detto oh abbiamo fatto la borsa e ci sta a carico massimo ma io non l'avevo leo o 26 abbiamo fatto ma che cazzo è stata stamattina porca troppo oh ma porco dici pensa se te levamo quel rosso oh donna mia devi rompere qualcosa 30 secondi meno sto per rompere qualcosa porco dici porca troppo oh comunque ho trovato un glitch non so se ne sei accorto ero sopra la capsula hai capito come è sopra la capsula mi sono trovato sopra la capsula e in cima che figata vabbè ma non è un glitch è un bug no no è un bug vabbè ma non è un bug mamma mia ho cliccato veramente il rosso lì 26 mi sembra che abbiamo fatto con chiudi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti